Si chiama Sharni Turner, è una mamma che viene dall'Australia e ha dovuto fare una dichiarazione pubblica per mettere a tacere quelle voci che sostenevano che avrebbe dovuto abortire viste le sembianze che possiamo considerare demoniache per quanto riguarda il nascituro. La donna infatti si è sottoposta ad una ecografia e l'ecografia in questione mostrava il disegno come se era di un teschio, come se era di una presenza demoniaca, di un demonio. E così la foto ha fatto il giro del web perché la donna era contenta ed è felice del fatto che è rimasta incinta era felice appunto anche del fatto che aspettasse questa creatura, ha voluto condividere lo scatto insomma nei social network e molti l'hanno schernita, l'hanno presa in giro e l'hanno ferita nel dentro, affermando che assomigliava a quella ecografia ha una figura demoniaca. Il video termina qua, tra i tanti commenti più utili c'è stato anche il seguente che spicca più di tutti ed è Devi abortire, è orrendo. La donna comunque spero che vada avanti, sono critiche e basta, stelle inutili che non servono a nulla. Un saluto, iscrivetevi a presto. Grazie. Grazie. Grazie.